Ciao, creatura. Io sono Eka Desplendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kuzai ESMRI. Sono stata contattata dalla Donor. Ma dopo andremo appena a vedere la confezione, se adesso c'è la luce troppo sparata. Non ti preoccupare, creatura, vediamo tutto bene insieme. Allora, la Donor è un'azienda che fa microfoni e appena ho visto i microfoni tu sai la mia passione smisurata per i microfoni. Quindi mi ha chiesto di provare e recensire questo microfono. Tu sei anche creatura che io non prendo mai recensioni che non possono interessarti o esserti utili. O prima mi informo su un prodotto se è valido oppure no. E questo mi è sembrato veramente valido e anche super economico. Allora, questo è un microfono USB a condensatore unidirezionale ed è il modello TC30. Ma adesso andiamo a vedere anche ad unboxarlo insieme. Praticamente è un microfono che va attaccato al computer semplicemente tramite l'unico cavo che c'è USB. e il computer l'ho già provato perché ovviamente prima di fare l'accensione l'ho testato per vedere se andava tutto come doveva andare. E confermo funziona. Anche se il mio computer è ipermega vecchio e dovrei cambiarlo. Ha rilevato il microfono subito ed è partito subito. È andato benissimo. Quindi sono molto contenta. Questo microfono in particolare diciamo che è molto versatile e io lo direi che è indicato per fare le live. Infatti lo userò per delle live easy, semplici, su un'altra piastraforma che non posso nominare qui su YouTube. Il sito viola ecco e sono molto soddisfatta di questo microfono per il prezzo che ha. È davvero conveniente quindi penso che sia una perfetta idea regalo per qualcuno di voi già un autoregalo. Oppure se qualche vostro parente, amico, immagino un cugino, non lo so, ha bisogno di un microfono per il computer sia per fare video live ma anche per formazione a distanza, qualsiasi cosa. Questo qui è perfetto perché ha già tutto, all'interno ha sia il tre piedi sia l'antipop che il microfono, cioè ha già tutto compreso nel prezzo. E cioè di solito quando vuoi a comprare un microfono non c'è neppure la spugna, questa qui te la devi sempre comprare a parte, invece qui ha già tutto. Quindi è fantastico, ti lascio nell'info box un codice squilling dove acquistare, poi lì sul sito puoi vedere anche tutti gli altri microfoni che hanno, anche più professionali. Però questo per iniziare secondo me è perfetto. E ti lascio anche un codice sconto del 10%, quindi oltre ad essere economico hai pure lo sconto, cioè questo super che chicca, che regalo ti faccio questo a Natale. Allora io direi che andiamo a vedere il packaging e andiamo anche a unboxarlo e montarlo, che è semplicissimo, super intuitivo. Però lo facciamo insieme perché già che siamo qua lo facciamolo insieme, facciamolo insieme creatura. E poi è troppo bello. E poi ti andrò a dire l'unica cosa che, diciamo, l'unico difetto, ecco, nel campo ASMR. Per il resto è perfetto, la qualità è buona e ha tutto insieme, ha tutto compreso nel prezzo. E il fatto che sia unidirezionale permette che cattura solo la voce davanti e non cattura i suoni che ci sono attorno. E io avendo un problema col computer, il mio computer ha una ventola che parte e sembra un elicottero. Infatti non posso mai fare, o comunque li faccio, quando faccio i video con questo microfono qua, con il vicino al computer acceso, c'è un rumore di fondo orribile. Invece con questo qui, con il donor di C30, non si sente, cioè è super silenzioso. Cioè non c'è il white sound, il rumore bianco di fondo. E quindi è perfetto per il mio computer scrausa. Comunque dopo andremo a fare un video insieme, che sarà proprio una challenge per me. Andremo a provare diversi trigger con questo microfono, così tu potrai, creatura, trovare il tuo trigger anche con questo microfono e dirmi anche cosa ne pensi, se ti piace e se lo compreresti. Questa è la scatola, dice due anni di garanzia e qui ci mostra il nostro microfono Tonor. Qui c'è il loro logo, ho scritto Tonor, Tonor, T-C-30, USB condenser, microphone. Non so se l'ha letto giusto. E questo è quindi, perché per il prezzo che costa, è molto professionale anche il packaging. Quindi già questo mi fa pensare, appena l'ho visto, mi ha fatto pensare che fosse una cosa buona, una cosa positiva. Qui abbiamo l'email per il supporto tecnico e il sito. Qui abbiamo le specifiche tecniche del microfono. Qui c'è il logo e nell'altro lato c'è questo. Poi di qua, che giro. Di qua invece abbiamo clear sound, plug and play e cardioid pattern. Ok, andiamo alla vera e propria unboxing. All'interno troviamo il libretto con le istruzioni, manuale di istruzioni che tra l'altro sto tremando tantissimo perché sono in una posizione scomoda. No, lo vedremo sempre. E le emozioni, creature. Dicevo, c'è anche in italiano, ma non c'è bisogno di neanche usarlo perché è talmente intuitivo che... Vabbè, comunque all'occorrenza c'è in italiano. Questo è importante. Poi c'è questo che è per l'assistenza tecnica, se non sbaglio. Sì, supporto tecnico. Ok. Mi fa già... mi mette già tranquillità avere tutte queste cose, sapere che c'è anche un supporto tecnico, nonostante il prezzo del prodotto. E adesso vediamo qui la confezione tutta imbottita. Quindi, cioè, mi dà l'idea anche di poter utilizzare la confezione anche per portare, se devo muovermi, portare in giro il mio microfono. No, così userò sicuramente la confezione senza bisogno di una borsa o qualcosa. E infatti l'ho utilizzato e poi l'ho riposto dentro la sua confezione perché così non lo tengo bene. Insomma, come faccio tra l'altro con altri microfoni che li metto tutti via nella loro confezione. Però gli altri microfoni sono microfoni che ho pagato tantissimo. Questo, cavolo. E' super economico ed è presentato, diciamo, al momento come... Anzi, in realtà ho avuto molte più cose per questo, per gli altri trappiedi l'ho dovuto comprare, lo spugno l'ho dovuto comprare, eccetera, eccetera. Quindi forse è costa meno, però ha più accessori. Ed è presentato, si presenta come un microfono costoso. Quindi, boh, sta cosa è fantastica. Io sono super sorpresa e affascinata, diciamo. Vabbè, insomma, alla fine c'è il cavo che è lungo due metri, quindi ottimo. E ha il cavo USB. Poi abbiamo qui il filtro, c'è anche il filtro di Pop, che dopo andremo a testare insieme. E il filtro è marchiato, cioè c'è la marca Tonor. E anche qui, sull'asta di ferro, è ferro questo, è bello freddo, non è plastica. C'è scritto Tonor, anche qui. E questa è di stoffa. Poi andiamo a prendere il microfono Tonor. Di G30. Allora, ha già il treppiedi, che è di ferro. Invece questa struttura qui è di plastica, anche il microfono è di plastica. Però, nonostante questo, non è un giocattolo. Si può estrarre. Possiamo anche usare così, come un microfono da presentatore. Qui ha il suo bello lucchino. L'ho fatto così. Molto bello, eh. Mi piace. È un bel design. Qui c'è il buco per la presa USB. E non so come si chiama questo foro, ma è da attaccare, comunque il connettore è da attaccare al computer. Ecco, l'unica pecca per me, che sono un artista ASMR, non ha il foro per la presa jack, per inserire le cuffie, quindi quando io vado a registrare un suono, non sento che cosa sto registrando. Per questo dico che molto probabilmente utilizzerò questo microfono come una challenge, perché appunto non sentirò che cosa sto registrando. E però questa la rende ancora più interessante. E anche per le live di chiacchiere ASMR soft, insomma, dove non sto lì a impegnarmi particolarmente per farti dei suoni in quel momento, ma è una chiacchiera così, in relax, che ha di questo sostegno che è di plastica. Serve per tenere sospeso il microfono e quindi attutire, diciamo, le vibrazioni. La prima volta che ne vedo uno è molto... ci sono degli elastici qui. E poi c'è il treppiedi, come abbiamo visto già, che già solo treppiedi costa ed è di metallo, è molto resistente. Quindi, buono, mi piace. Andiamo a montarlo, cambio inquadratura e lo montiamo insieme. Adesso andrò con questo soft spoken a mostrarti quanto è facile inserire il microfono e montare tutto. Cioè, devi solo inserire il microfono dentro questi elastici e poi inserire l'antipop all'interno di questi cosi che non vedi, questi. Questi... farlo passare qui dentro, insomma. Allora. Io sono, tipo, scomodissima, ma nonostante questo sto riuscendo a inserirlo. Vuol dire che è proprio facilissimo. Posso inserire molto delicatamente. Eccomi qua. Encore qua. E' tutto molto compatto, mi sembra tutto molto solido, resistente e... Nonostante il microfono sia molto molto leggero, perché è di plastica, è tutto molto compatto. Sì, di vibrazioni. Qua semplicemente fatto passare qui, all'interno, fatto scivolare dentro. Ecco, posto. È entrato. Eccolo qui. Ci sono già dei fili di Sam. Complimenti. E' già mio. Eccolo qui è pronto. Bello anche dettagliato con anche il logo qui. Cioè, molto elegante anche, secondo me. Comunque, andiamo al video vero e proprio, cioè a testare tutti i vari trigger e vedere come reagisci, insomma. Io adesso non so che cosa sto registrando, perché appunto non posso utilizzare le cuffie per sentire la mia voce. Quindi farò un po' di soft spoken, un po' di whispering e a diverse distanze con la bocca. E ho preparato degli oggettini, ho preparato degli oggettini con il quale fare tanti suoni, tanti trigger, creatura. Spero che ti piaccia. Insomma, sono curiosa anch'io di sperimentare e appunto sentire come reagirà il microfono a determinati trigger. Allora, attualmente sto registrando quel computer che tu non vedi, è qui, in questa zona, qui puoi vedere il cavo che è collegato. E la ventola del mio computer, la sento già, che sta tipo un elicottero, no? Sta prendendo il volo. E quindi sono molto curiosa di sentire se poi, dopo quando andrò a editare il video, se si sente la ventola. Ok, abbiamo provato il whispering. Ora proviamo, questo è soft spoken, proviamo in audio. Ecco. Questo è un filtro anti-pop. Anti-pop, 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 anti provo 1,2,3 mi sto allontanando per sentire la differenza passo un po' il microfono questo è il mio profumo che buono la guantilla Tutta schiumosa Bene, non ho neanche tanti unchi Proviamo ad accendere Finalmente è passato anche il treno Questo pezzo lo lascio perché voglio sentire come si sente Perché ogni volta che devo fare qualche video Passa il treno Faccio 4.000 tagli E quindi Questa è la mia pancia di prontola E' proprio un test che facciamo io e te insieme a Creatura Così mi puoi dare anche il tuo parere che è importante Questa è un'alpaca di legno Porta Nostro adesivo Che dovevo decorare ma poi Non ho più avuto il tempo e l'ispirazione per fare Questa è la carta Questa è una penna Volevo provare anche a scriverci Aspetta, ho questa penna Per benedire anche il microfono Per benedire anche il microfono Questo devo andare piano piano E stare anche distante mi sa No, non riesco a scrivere Troppo rumore Mi mancava di fare un video con tutti i solosuoni E ne farò altri Se ti piace una creatura Solitamente questo è il mio preferito Con gli altri microfoni Voglio proprio sentire con questo Come verrà E la spugnetta in silicone Poi i vicini stanno facendo rumori Quindi sono curiosa di sapere Se capta Se ha captato questi suoni Orribili dei vicini Questo è un rossetto Lip paint Che è un profumo eccezionale Poi mi piace questo suono qui Che sentirai anche nel video di giovedì Oh spoiler Non dirò altro Il video di giovedì Preparati in creatura Perché ci siamo impegnati Ci siamo Attenzione Ci siamo impegnati tantissimo per farlo Vedrai 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 Provo a fare un brushing Però non so Sotto l'antipop Non ho idea di cosa si sente Sono molto curiosa di Adesso Adesso Non stai sentendo nulla Perché è stato Probabilmente Se non hai sentito Il brushing Era orribile L'ho tagliato Ok Direi di fare Un po' Di tapping Scratching 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 E io concluderei con un po' di ting sound di questi crackers. Metti che io voglio fare una live dove mangiamo insieme, dove ceniamo insieme, bisogna provare tutti i suoni, creatura, quindi andiamo anche a versare un goccio d'acqua e a bere. Non so se ero troppo vicina. Eh, devo fare tutti i suoni. Ah, devo fare... Ah, è fondamentale. Ok. Credo di aver fatto tutti i suoni che volevo provare. Volevo fare anche le fuse di Sam, ma Sam non sta tanto bene in questi giorni, quindi la lascio stare. Io spero che questo video ti sia piaciuto e ti abbia fatto rilassare, ma soprattutto ti abbia fatto conoscere un microfono che secondo me è valido e economico. E in più ti danno tutto, cioè, cavolo, non puoi farti sfuggire quest'occasione per questo Natale. Ti lascio appunto il link e il codice sconto nell'info box del video, anche forse nel primo commento. Ti auguro buonanotte. Buonanotte. Ciao, creatura. Si sfumerà in bianco stavolte. Sei pronta, creatura. Buonanotte. Ciao, creatura.